Ciao a tutti, benvenuti alla classifica dei segni più fortunati per la settimana che va dal 2 all'8 di ottobre 2023. In questa settimana Mercurio la smette finalmente di stare in quel segno un po' secchione della Vergine, c'è stato un sacco di tempo perché è stato anche retrogrado ed entra in bilancia, quindi si fa più esteta e giusto, etico e sociale. Ma c'è un'altra piccola cosetta astrologica da segnalare per questi giorni, ovvero Lilith, che è una posizione, non un pianeta, che entra nel segno della Vergine. Lilith è il simbolo della femminilità che non scenda compromessi e in Vergine riscopre la sua forza. Ci sarà per 9 mesi nei quali i segni di terra saranno alla riscossa. In dodicesima posizione abbiamo subito l'Ariete. Non iniziare a lamentarti Ariete perché contro ogni convenzione delle classifiche ti dico subito che qua ti ci lascio solamente per questa settimana, ma sarai davvero intrattabile. Pronto anche a lamentarti che la Coca-Cola abbia troppe bollicine oppure che la cicletta in palestra Bari togliendoti dei chilometri pedalati. Non sei credibile. All'undicesimo posto c'è il cancro. Non riesci a darti pace dopo la luna piena che c'è stata nei giorni scorsi e pare che nella tua testolina le lamentele e le idee pessimiste scoppiattino come i palloncini ad un gender reveal. Ne hai per tutti, insomma, cancretto. Si sa che tu non sei un segno bravo a mantenere la calma quando le emozioni si fanno sentire. Quasi quasi rimpiangi un po' quella noia piatta dei giorni scorsi. Al decimo posto il capricorno. È un attimo che ti scappi via un vaffa, come un calzino rosso nella lavatrice dei bianchi e che colori subito tutta la tua giornata di malintese e di nervosismi vari e che proprio ti sembra che l'equilibrio e la concentrazione si siano dileguati come le giornate di caldo affoso, nemmeno l'ombra proprio. Al nono posto c'è lo scorpione. E niente, anche Mercurio si è tolto dalla tua sfera di protezione e tu sei rimasto quello con la pagliuzza corta in mano, scorpione. Tieni duro però, fidati della tua astrologa. Il bello è che questa settimana tutte le tue sfighe potrebbero tramutarsi come per magia in una struggente pista teatrale di quelle che fanno sold out peggio dei biglietti dei concerti a San Siro. Perché tutto sto dramma, caro mio, deve tramutarsi in qualcosa di creativamente grandioso. Non c'è altra soluzione. In ottava posizione c'è il toro. Vuoi goderti la vita, ma pensi in fondo che a godersela da soli non si stia poi così male. La voglia di avere a che fare con le persone che ti circondano è ai suoi minimi storici. E pur di non salutare un vicino di casa, fai le scale a piedi. Tu, il re indiscusso della pigrizia, massimo sostenitore dell'ascensore come benefit dell'umanità. Fai fatica anche a sganciarci un sorrisino di cortesia in questi giorni, perché anche la cortesia se ne sta alla larga. Settimo posto per la vergine. Quanto ti dispiace per questo Mercurio che, ahimè, ti ha abbandonata, ma c'è rimasto parecchio nel tuo segno zodiacale. Insomma, ricordatelo e non è nulla di personale, verginona. Succede. Adesso il tuo cervello può finalmente riposarsi come se fosse in sauna dopo un triathlon da Iron Man. Insomma, vergine meritatissimo riposo e nessuno potrà disturbarti. Direi che hai lasciato pensieri, ordini e disposizioni per le prossime due generazioni. Tu puoi dormire sonni tranquilli. In sesta posizione abbiamo i pesci. Sembri tornato in te, come uno che si risveglia dopo una sbronza. Diciamo che ci vorrà qualche giorno per riprendere in mano tutti quei progetti che hai mollato da un pezzo, come si fa con un cantiere quando rimane senza soldi. Soprattutto in amore, però, sei prontissimo a rimetterti il caschetto da ingegnere e a costruire veloce ed efficiente perché ti pare di aver perso già fin troppo tempo. Puoi tornare a fare le cose per bene, soprattutto col partner. Bando alle ciance. Quinto posto per l'acquario. Il tuo cervello fa scintille e credo che anche se i pianeti non sono proprio tutti schierati dalla tua parte, tu però ti senti in un equilibrio davvero perfetto. Come chi ha la balera non sta proprio in prima fila, ma è sereno di poter anche sbagliare qualche passetto di danza. Questa storia che l'amore continui a non interessarti e quindi a non stressarti, ti permette infatti di dare libero sfogo a tutte le tue pazze, pazze idee, tutte quelle che ti vengono in mente. Insomma, acquario, siamo pronti. Quarto posto per il leone. Raccatta tutti i baci che puoi. Bacini, bacetti, baci passionali, baci sulla fronte e persino i baci col rossetto perché dalla prossima settimana, caro mio, ritorneremo solo ai baci di routine. Goditi infatti questa venere che ancora per tutti questi sette giorni ti rende in effetti irresistibile come un panino col salame quando si ha dieta. Terzo posto per il sagittario. Adesso si sagittario che puoi tornare ad inforcare gli occhiali come un professore universitario e appuntare l'indice come fa Harry Potter con la bacchetta magica. Perché per questa settimana c'è un equilibrio perfetto di pianeti che ti rendono adorabili come quella borsetta in vetrina della nuova collezione autunno-inverno che di certo non resterà in venduta fino ai saldi. Secondo posto per i gemelli. Finalmente ti sei lavato via Mercurio che ti rendeva impacciato e adesso ti senti un cervello pulito e splendente pronto a chiacchierare per 12 ore consecutive per recuperare ovviamente. Torno a quella sensazione di chi se la può cavare nell'interrogazione anche senza aver aperto il libro. E sarà proprio così. Quindi sfruttalo. E al primo posto nella classifica dei segni più fortunati di questa settimana c'è la bilancia. Hai un sex appeal bilancia degno di Naomi in passerella e nessuno oserà metterlo in discussione. Marte e Mercurio ti faranno addirittura pensare e dire delle cose sconce ma per una volta non arrossirai. Più che altro perché stai solo progettando di metterle in pratica nel minor tempo possibile. Brava! Ci vediamo sempre qui con la classifica della prossima settimana. Ciao! Ciao!